Arriva in Cassazione il caso di Martina Rossi, la studentessa ligure morta dopo essere precipitata dal sesso piano di una tela di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011. La Procura Generale di Firenze ha infatti fatto ricorso contro l'assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani erettini che quella drammatica notte si trovavano in camera con la ragazza. Per il Procuratore Generale Luciana Singlitico nella sentenza di appello ci sarebbero indizi non valutati, una motivazione contraddittoria, una valutazione frazionata e priva di logica degli indizi ed una travisazione di circostanze decisive. I punti che ovviamente la Procura Generale impugna sono quelli noti all'assenza dei pantaloncini, al fatto delle intercettazioni, alla ricostruzione della caduta e tutti però fatti che ovviamente si scontrano con la monolitica sentenza della Corte d'Appello che in maniera approfondita e analitica ha sviscerato tutti questi posti e ha sostanzialmente conformato l'innocenza di entrambi gli imputati per entrambi i capi di imputazione. I due giovani erano stati condannati a sei anni in primo grado dal Tribunale di Arezzo, ma nel giugno scorso quella sentenza era stata ribaltata dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, da qui il ricorso alla Suprema Corte. Adesso però sarà una corsa contro il tempo, prescritta novembre scorso l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, anche sul reato di tentata violenza sessuale incombe infatti la prescrizione che scatterà a fine agosto 2021. Non ho dubbi che in ogni caso i due imputati verranno confermati dall'assoluta innocenza di entrambi, al di là di quello che poi possono essere le tempistiche che però effettivamente dopo dieci anni è anche giusto che una vicenda processuale comunque trovi la sua definizione. La famiglia della giovane è parte civile nel processo. Papa Bruno e mamma Franca da anni si battono per scoprire la verità sulla morte della figlia. Grazie. Grazie. Grazie.